Allora signore e signori siamo qui a Cuta, che giorno è oggi Saletta? Il 12 febbraio 12 febbraio e ci stiamo dicendo che alle 5.20 sono 30 barra 32 gradi Un saluto a tutti e alla nostra Saletta hai qualcosa da dire? Ciao a tutti Come siamo? Siamo a Cuta, veramente caldo Come vediamo la bassa marea quindi il mare si ritira e tutti possono stare in spiaggia Sara ha preso i regalini per la famiglia Saluto a tutti Ne manca solo uno Ciao a tutti Ciao a tutti